Bitcoin è seduto su una bomba, è appeso al filo del rasoio, ragazzi, e la miccia è accesa. Questa, diciamo, affermazione la possiamo tirare fuori da quelli che sono gli indicatori di analisi fondamentale post-hulbing. L'hulbing, ragazzi, è avvenuto e tutto quello che è successo dopo è stato spostato dal prezzo a quello che è la blockchain, la rete di Bitcoin, che sta subendo quelle che sono le conseguenze più importanti dell'hulbing. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo analisi fondamentale degli indicatori più importanti della blockchain per capire quello che è accapitato e quello che sta succedendo post-hulbing, perché analizzando questi indicatori riusciremo a capire quello che sta succedendo, l'enorme fase di tensione, ragazzi, che c'è sottostante, sotto un velo nascosto relativamente alla rete blockchain, ai mercati delle criptovalute e poi potremmo usare queste informazioni per prepararci, ragazzi, a quelli che sono i possibili movimenti di Bitcoin nei prossimi giorni. Quindi oggi un video super importante, stracolmo di nozioni, ragazzi, perciò vi devo chiedere di lasciarmi un pollicione per questi video. Per scriverli ci metto veramente tanto, tanto tempo, ma mi fa piacere fare contenuti di questa qualità, ragazzi. Allora andiamo ad analizzare, a strizzare tutti questi indicatori. Poi, alla fine del video, ti diremo le somme, quali sono le due possibilità per usare queste informazioni al nostro scopo, cioè quello di fare investimenti migliori, quelli di poter ottenere un maggiore profitto da qui ai prossimi giorni su Bitcoin. Perciò, ragazzi, succo e i pollici, poi iscrivetevi al canale come sempre se ancora non l'avete fatto e ditemi quello che pensate, fatemi sapere tutto quello che pensate di quello che vedremo in questo video, perché la vostra opinione è importantissima per me. Spostiamoci sugli indicatori, non sono grafici. La prima importantissima conseguenza dell'halving, ragazzi, non è avvenuta sul prezzo, ma è avvenuta sulla blockchain, l'intasamento della rete relativa ai Bitcoin. Si è intasata tutta la rete Bitcoin, ragazzi. Quindi le fiche pagate ai miners per minare il blocco relativo con tutte le informazioni scritte dentro, sono schizzate alle stelle. Questo succede quando la rete blockchain si intasa, ragazzi. Quindi questa è la prima conseguenza dell'halving, dovuta a cosa, ragazzi? Al fatto che l'hash rate è iniziato a scendere in maniera anche molto importante. La discesa dell'hash rate ce lo aspettavamo, perché il meccanismo dell'halving, ragazzi, riducendo il reward per i miners, produce l'effetto di far staccare le macchine ai miners. Staccando le macchine, l'hash rate totale della blockchain di Bitcoin scende, ragazzi. Questo era atteso, nulla di che. Però c'è stato anche un intasamento fortissimo, ragazzi, della rete blockchain. Questi sono i tre fattori più importanti che sono avvenuti post-halving e hanno dato come conseguenza, ragazzi, un innalzamento delle transaction fee. Ma guardiamole graficamente così riusciamo a capire meglio quello che è avvenuto, ragazzi. Allora, sempre sul mio sito btc.com vi faccio vedere come sono aumentate le transaction fee. Si vedete la percentuale per la block reward, ragazzi. È salita addirittura, nella giornata di oggi, intorno al 27% in media, ragazzi. Ecco, vi faccio vedere, per esempio, su quest'altro grafico che nel 2017, durante il pieno della bolla, le transaction fee, ragazzi, raggiunsero, vedete, una punta di 30. Quindi in questo momento, voi non lo vedete perché ancora questo grafico non è aggiornato, ma siamo qui, ragazzi, siamo in questo punto, in questo momento, nello stesso punto che è stato indicato come il massimo di Bitcoin storico dal quale, poi, abbiamo visto crollare i prezzi di Bitcoin. Ecco, vedete, qui, ragazzi, invece, è già aggiornato. Il blocco, in questo momento, indica un 25,37, ma abbiamo visto che nella giornata di oggi sono vicino al 30%. Quindi siamo ai massimi storici delle transaction fee per la blockchain di Bitcoin. Perché senza il 27% di reward in più, ragazzi, in pratica, dato ai miners, in questo momento l'ash rate sarebbe crollato, ragazzi, sarebbero state staccate molte più macchine. Capite bene quanto siamo seduti su una bomba, ragazzi, quanto la situazione di tensione nella struttura sottostante Bitcoin è elevatissima perché siamo ai livelli massimi di quello che è stato un meccanismo che poi si deve automaticamente riequilibrare, ragazzi. Quindi in un modo o nell'altro questi numeri dovranno rientrare ed è pericoloso in questo momento perché basta un soffio, ragazzi, un soffio di spostamento del prezzo di Bitcoin da una parte o dall'altra per far scattare la scintilla. Questa è la chiave di questo video, ragazzi, è questo che sto cercando di dirvi. Adesso andremo al cuore della situazione. Vi faccio solo vedere ultima volta l'ash rate. Eccolo, ragazzi, allora l'ash rate che vedete in questo momento sta subendo una riduzione notevole perché siamo intorno, in questo momento, al 95% di potenza della rete blockchain e siamo passati da circa un 118, più o meno, che era qui nella struttura del massimo, ragazzi, dell'ash rate, siamo scesi intorno al 18-20%, quindi hash rate sta scendendo, ragazzi, i miners hanno staccato le macchine. Di conseguenza si è intasata la blockchain e questa ha spinto su le transaction fee che sono decollate ai massimi storici, ragazzi, tutto indica una cosa in maniera chiara. Questo meccanismo sottostante Bitcoin deve far scendere la difficulty. Difficulty che è già scesa oggi del 6% è attesa ancora a un meno 7% fra 14 giorni, ma la difficulty scende in maniera lenta di Bitcoin, ragazzi, perché scende ogni 14 giorni, non è variabile come per esempio Bitcoin Cash, è lenta nella discesa. Questo può portare in questi 14 giorni ad avere una ampia volatilità dei prezzi di Bitcoin. Come sfruttiamo queste informazioni, ragazzi? Come le sfruttiamo per fare i nostri investimenti? Cosa significa una cosa del genere? I miners stanno cercando un nuovo equilibrio. Questo significa, stanno cercando di capire fino a quando possono spingersi e fino a quando riusciranno a tenere accese le macchine. Se il prezzo di Bitcoin dovesse leggermente, ragazzi, schizzare su alcuni livelli di resistenza che abbiamo visto all'inizio settimana nel mio video classico a 10.500-11.000, questo, ragazzi, porterebbe probabilmente il prezzo ad andare a fare un super pump immediato, un po' violento, perché questa attuale situazione è una situazione di disequilibrio che sta cercando il suo equilibrio da qualche parte. E l'equilibrio lo può trovare solo in due modi, ragazzi. Uno, il prezzo di Bitcoin schizza su velocemente. Due, la difficulty della blockchain scende molto, molto pesantemente. Questo è l'unico meccanismo per ritrovare l'equilibrio. Quali sono le conseguenze, quindi, da un punto di vista del trader, dal punto di vista dell'investitore, come sfruttiamo queste informazioni? Queste informazioni ci indicano, ragazzi, che siamo sul filo del rasoio, siamo seduti su una bomba. Questo ci fa capire che l'attuale situazione del prezzo di Bitcoin imbambolato, ragazzi, è imbambolato perché non si sa dove andare, perché se si esce da una parte il mercato amplificherà la sua volatilità, ma anche se si esce dall'altra, ragazzi, immaginatevi una cosa. Se dovesse scendere il prezzo di Bitcoin in una situazione del genere, si innescherebbe una spirale di panico, perché i miners saranno costretti a staccare velocemente le macchine per via del Bitcoin troppo sceso a livello di prezzo e questo innescherebbe una spirale anche di paura. Quindi ancora intasamenti della blockchain e ancora problemi anche nella struttura degli indicatori fondamentali e prezzo che sta andando a picco. Ragazzi, sarebbe una bomba, una cosa del genere. Perciò in questo è un momento molto delicato da una parte e dall'altra. Sfruttiamo e possiamo farlo questa situazione in due modi diversi, ragazzi. Ci si può tentare di posizionare sui mercati delle criptovalute, su Bitcoin, per esempio già long in questo momento, con la consapevolezza che se dovesse scendere, ragazzi, dobbiamo chiudere immediatamente in stop loss, perché è pericolosa questa situazione, almeno lo sarà, ragazzi, fin tanto che gli indicatori fondamentali saranno ancora in disequilibrio come lo sono in questo momento. Poi nel momento in cui si riequilibrerà tutto, allora a quel punto questa situazione di miccia, chiamiamolo così, miccia accesa, sarà ridotta, sarà praticamente annullata. Quindi questa situazione, ragazzi, c'è perché in questo momento c'è un grande disequilibrio che sta tentando di raggiungere un nuovo equilibrio, ragazzi, post halving. Perciò se ci posizioniamo long però in questo momento e Bitcoin dovesse fare il break rialzista, spostando, quindi aiutando i miners in pratica, a raggiungere un equilibrio senza staccare troppe macchine in pratica, ragazzi, ok? Facciamo, ragioniamo così. A quel punto potrebbe avvenire un super pump di Bitcoin, ma anche del 20-30% e l'investitore, ragazzi, sarebbe già dentro al mercato perché io ho paura che un eventuale break di 10.500 e 11.000 di Bitcoin farà un pump immediato, ragazzi, molto forte, molto veloce. Quindi sarà un po' anche difficile da gestire. Però, ragazzi, questa possibilità c'è. Quindi, se siete dei trader e sapete come fare queste operazioni, se avete studiato, avete la formazione per capire come gestire, queste sono operazioni di ampio rischio, ragazzi, quindi non voglio dare consigli fianzei, ci mancherebbe, quindi ricordate, solo se avete le braccia forti potete fare una cosa del genere. Se siete neofiti, scordatevelo completamente perché sono operazioni difficilissime. Però sono ghiotte, ragazzi, perché se avviene effettivamente un break in questo momento, questa, questa, diciamo, valvola di sfogo accesa potrebbe sfociare in un super pump. Attenzione, però, perché questa valvola di sfogo potrebbe sfociare in un crash del mercato nello stesso identico modo come nel pump, ragazzi. Avete capito dove siamo in questo momento? Siamo su una corda, come l'equilibrista Bitcoin sta ragionando sulla strada da fare ed è in attesa per questo, vedete, i prezzi schiacciati, ragazzi. E' la calma prima della tempesta. Un altro voto che ha il trader di sfruttare questa situazione è sempre a rialzo di Bitcoin, ragazzi. Senza assumersi il rischio di entrare ora e vedere che succede, poi chiudere in stop immediatamente al primo segnale di debolezza, magari sotto i 9000, più o meno, ragazzi. Sotto i 9000 avviene un segnale di debolezza sotto i 9000, 8800. Cosa può fare un trader? Aspettare di vedere il break dell'aria di resistenza 10.000 e 15.000. Ragazzi, si può fare anche questo. E' più prudenziale, ma vi espone lo stesso. Non ve lo dimenticate, ragazzi. Vi espone lo stesso in questo momento anche a un fake breakout, perché nel momento in cui il mercato arriva là potrebbe essere manipolato per essere ributtato giù. E' pericoloso. E nello stesso momento, quando ci arriva, ragazzi, se il mercato accetterà quel livello, schizzerà velocemente più su. E questo potrebbe essere difficile da trattare per una persona che magari non ha neanche la tecnologia adatta, ragazzi, i sistemi automatizzati e quant'altro. Perciò in questo momento, per la prima volta da quando ho il canale, ragazzi, io preferisco indicare una strada più prudenziale, preferisco accettare uno stop loss da questi livelli di prezzo, piuttosto che aspettare il break della resistenza a 10.500, perché da quello che vediamo sugli indicatori di analisi fondamentale, c'è una forte tensione che deve essere sfociata da qualche parte. Deve sfociare, ragazzi, da qualche parte. Dove andremo? Se passeranno altri 14 giorni, due settimane in queste condizioni, i miners continueranno a staccare le macchine e la difficulty scenderà, si ridurrà questa polveriera dove siamo seduti in questo momento, ragazzi. E quindi queste indicazioni che vi sto dando hanno una valenza per le prossime settimane, ma non sappiamo per quanto tempo, quindi sicuramente non all'infinito. Siamo su questa polveriera dove andremo a finire. Cosa ne pensate voi, ragazzi? Guardate com'è complicato e com'è appassionante e splendido il meccanismo dell'halving di Bitcoin, anche per un traders. Bene, ragazzi, spero di avervi detto delle cose importantissime e avervi chiedito una serie di dubbi anche su questo halving e cos'è veramente quello che capita nei mercati con queste situazioni. fatevi sapere quello che pensate nei commenti come sempre. Io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!